Infine il consigliere regionale tarantino Mino Borracino chiede che siano individuate e messe in atto tutte le necessarie modifiche anche radicali alla tecnologia produttiva finalizzate alla tutela della salute pubblica da definire a valle della valutazione del rischio e dell'impatto sanitario e ancora la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali esistenti.